Musica 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 Bella ragazzi sono Dario e sono tornato con un nuovo episodio di Cat Mario e visto che vi è piaciuto l'altra volta visto che avevo chiesto di darmi un po' un parere vostro su su Cat Mario e visto che vi è piaciuto quindi continuiamo molti mi hanno detto che schifo l'hanno già fatto tutti ma sono morto? Ah vabbè ok l'hanno già fatto tutti si ma io lo so che l'hanno già fatto tutti porca troia però vabbè vabbè lo so ma io l'ho fatto apposta perché è un gioco diciamo tra i più famosi di questi tipo di giochi qua no e quindi l'ho fatto per vedere se vi piace ce la faremo a entrare là dentro? non mi sa di no per vedere se vi piace io che faccio questi giochi e quanto pare vi è piaciuto anche se non a tutti ovviamente perché non si può piacere a tutti vi è piaciuto e quindi continuiamo con il secondo episodio colgo l'occasione per ringraziarvi del traguardo che abbiamo raggiunto poco tempo fa i 10.000 iscritti che è un traguardo veramente importante per uno youtuber soprattutto qua non lo so cazzi c'è allora come famo? oddio noi la famo scendere è un bel problema comunque molti mi hanno detto variate con con le serie con i giochi con tutto quanto e da una parte avete ragione forse ce l'abbiamo fatta ok stiamo dicendo avete detto variate con i videogiochi avete ragione variamo con i giochi e questo per esempio è un primo passo cat mario perché voglio fare appunto questi giochi un po' da pc un po' stupidini certo non è che voglio diventare favij però voglio provare a fare comunque questi video qua no? madonna madonna lezzo lezzo si questi giochi un po' lezzi voglio cominciare a fare no? e se a voi piacciono tanto meglio perché vuol dire che ne faremo tanti ok ok oh c'è pedobear fermi ok oddio mio comunque consigliatemi quali classi potrei si quali classi consigliatemi quali giochi potrei fare cosa vorreste vedere sul canale come lo vorreste vedere tutto quanto io vi ascolto e leggo tutti i commenti adesso concentriamoci sul gioco qua esce pedo vai ma ancora che faccio così là dio mio lo so che è così ok e porca ce la farò arrivare si vabbè oddio mio quel blocchetto lì lo vorrei uccidere io cerco di scherare il meno possibile ma giuro ci stanno delle volte che è poco inevitabile se io mi butto qua mi pia oh no fermi ok bandierina presa ok ok non ho fatto niente però questi cascano dal sicuro e e cazzo oh ma che è eh eh vabbè allora namo se ne prima che casca quello oddio veloce veloce mamma mia pezzi di napi la stellina manca il funghetto eh napi sto incazzo napi tra il funghetto forse si dio mio quegli questi blocchetti che che da un momento l'altro escono quanto li odio ok ma forse quel coso la stellina deve fare qualcosa ah ok benissimo vai così che cosa è che ho preso vabbè ma come faccio a passare quel pezzo là è impossibile cioè è una cosa impossibile passare quel pezzo là allora devo piattuto no allora la stellina se ne va affanculo giusto vabbè se ne va insomma da qualche parte se ne va vabbè ma come l'ha aperto come faccio a passare qua oddio che culo io mi sa che non devo piacere qualcosa è meglio infatti ok 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 oh ma che cazzo ma non mi puoi accelerare così te però non puoi fare infame così no cioè keep calm ok ma vai piano è bello bello mamma mia mamma mia sopra sopra si torna in aria ragazzi allora io qualcosa non mi fido io lo salto no ero arrivato no oddio meno male pensavo che tu vorrei cominciare da là e mo sbrigate 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 oddio che culo secondo livello fatto mamma mia e adesso voglio 200 like per il prossimo episodio si li voglio adesso quindi cliccate like e vi dico di passare sulla pagina facebook o anche instagram sta tutto in descrizione non vi perdete niente aprite la descrizione c'è sta tutto quello che volete e niente se vediamo al prossimo episodio se vi aggiungiamo un giocento like bella